vai vai smc oggi che giorno è 7 7 7 8 7 7 7 dicembre 2023 con noi alessio pomaro che alessio intanto come stai bene ciao a tutti sto bene sono ripreso benissimo raccontaci questo tuo smc beh allora il mio smc quest'anno ho parlato di indovinate non lo so forse efficienza artificiale ai 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 generativa ho fatto un intervento dove ho fatto l'apertura della sala ai generati via quindi ho aperto un po le danze ho unito i puntini ho raccontato quali sono le ultime novità quali sono e ho fatto un po di riflessioni sulle ai generativa in genere e poi ieri in plenaria abbiamo raccontato un po gli sviluppi che stiamo facendo sulla parte seo e ai quindi questo è il mio smc per ora senti il 2024 ovviamente sarà intelligenza artificiale sappiamo sarà anche l'anno dei video lo dobbiamo dire perché mi sembra doveroso cosa ci dobbiamo aspettare da questa intelligenza artificiale allora per il 2024 visto che proprio ieri google ha presentato gemini l'ultimo loro large language model però hanno lasciato un po di parentesi aperte perché hanno detto l'anno prossimo presenteremo il nuovo il modello diciamo più più esteso la versione ultra del del modello quindi mi aspetto un grandissimo ritorno da parte di google anzi me lo auguro perché per ora hanno fatto un bellissimo marketing ma poca sostanza ultima domanda che cosa ti aspetti da gemini che ho letto praticamente ieri sarà lanciato il 13 14 allora in realtà si dal 13 sarà disponibile già su vertex eccetera su bard è già disponibile ovviamente stanotte l'ho già testato un po però ripeto è la versione pro ancora quindi mi aspetto di vedere la versione più più spinta anche perché tutti i benchmark che hanno pubblicato sono in confronto con gpt 4 non con gpt 4 turbo quindi come ho detto stamattina ho fatto un post stamattina dove l'ho raccontato e ho scritto google è bravissima a fare marketing ma per ora la sostanza è ancora indietro rispetto ai competitor mi aspetto per il 2024 lo ripeto questo di vedere un grandissimo ritorno da parte di google concordo con te speriamo bene grazie mille grazie ciao